E rieccoci qui ragazzi, in quello che a prima di vista sembra essere una specie di stadio comunale o un teatro, non ho capito ancora di preciso cos'è, ma ci siamo appena arrivati e... Oh, ci sono due simpaticissimi cosi che servono per comprare gli oggetti, immagino che ora non lo porterò dalla mia parte per dare tutti i soldi, perché ho scoperto che con questo potere ci si possono far dare tutti i soldi dalle macchine automatiche, quindi... Perché non sfruttarlo? Oh, aiuto trappola dei corpi, aiuto bacio del diavolo, non disponibile e non disponibile, anche perché non avremo nemmeno i soldi per prenderlo, perché costano veramente tantissimo, tipo 1485 e 1241, wow Credo che dovrò arrivare tipo a metà gioco se non di più per avere tipo i soldi Conezioni mitragliatrice, yeah! Dammi, dammi Ottimo, sali, grazie Comunizioni pistola anche un po', magari fanno sempre comodo E ho finito i soldi, perfetto Però ho un bel po' di sali adesso e le do di nuovo la mia carissima mitragliatrice Vai Oh yeah! Siamo tutti pieni di mitragliatrice, ragazzi Posso raccogliere Ah, è vero, le posso bere Oh, mi danno i sali, wow Non lo sapevo Questa ancora nulla Sono bevande ai sali, praticamente Vediamo un po' se possiamo corromperne qualcuno di questi simpaticoni Tipo lui Wow Vai, ammazzali tutti Oh, c'è una torretta lì giù Ho ancora abbastanza sale per usare la torretta? Mi sembra di sì Forza, vai No, no, che palla Questa è morto Posso usare i corpi? Vieni, qui Corpi Oh, che palla Guarda, era quasi morto Non era molto il caso di usare i corpi contro quello C'è qualcun altro? Che ne vuole un po'? Chi vuole un po' di piombo? Un po' di piombo, ok Ottimo Vai, c'è un po' di piombo Muori Ciao Muori Qua dico Pensi, pensi, pensi C'è un po' di piombo Qua dico, pensi, 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 è morto Wow, 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 wow Chi c'è? C'è qualcuno qui vicino? C'è qualcuno qui vicino? Devo ancora regolare la sensibilità del mouse, ragazzi Non mi ricorderò mai di regolarla, già lo so Tipo arriverà a fine gioco che ancora devo regolare Anche perché non è facile regolarla, ragazzi Sono sincero, è un po' un casino perché Oh, via, 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 vieni qui Muoviti Muori, qua start Muori, muori Grazie Abbastati, abbastati, cambia arma Siamo secco Grazie mille Ricaricati Perfetto Alcun altro Dammi tutti i trariettrici Grazie mille Trariettrice, ricarica Oh, solo cinque colpi Schifo Noi sono questi bastardi Sì, ho capito Sparatelo Io ho capito Sparatelo Italiese scorreggiuto, ragazzi Ci prenderò Ok Peccato che Ho tipo mancato 8000 colpi Perché non riesco a mirare con questa boss Ma Fa niente, ragazzi Oh, è morta con la bocca aperta C'è nessuno C'è che vuole un po' di granate esplosive Al fuoco Ahia Posso? No, non va abbastanza di lì Quanto è Oh, 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 oh Ma che hai i corpi? Ho messo il fuoco Tieni Distrutta con la maledetta torretta? Quella non sembra Grazie Per essere esplosa Tra l'altro Distrutto la torretta con Le ultime parole Le ultime parole sono Sono Stai lì, eh Le ultime parole sono Echa No, ti sei mosso Peccato Te ne pentirai Non per stare dove è epico Se l'avessi compita Ok, ora è morto E immagino Di aver fatto Finalmente Piazza pulita Yeee Che bello Era pure ora Insomma Dammi Cosa c'è qui dentro Tutto quello che c'è qui dentro Perfetto Salute per me E vediamo Un po' Oh, altro vigor Altri sali per il vigor Vieni qui Spam Oh, ah Qui potevo dar fuoco Per farli prendere fuoco A tutti quanti loro Non ci avevo pensato O meglio Non l'avevo proprio visto Per essere ancora più sinceri Ok, abbiamo il vigor A manetta Tutto carichissimo Salute Salute Vieni a me Una sigaretta Magari era me Io che non le prendevo Fanno calare la salute Lo succede un po' In tutti I I Bioshock Oh Cosa Cosa raccolto Cerca Contengono gli oggetti Anche le torrette Wow, non lo sapevo Cos'è lì? Oh, una antenatrice Yeah, colpi Vieni qui Venite a me Carica tutto Oh yeah Ora sono figo Ho i colpi Della mitragliatrice Ragazzi Quindi Detto ciò E fatto ciò Direi che possiamo Anche andare avanti Una pistola Qui altre cose da raccolare Ottimo Sono ricaricato per bene Devo dire Ok Dobbiamo andare di là Tra l'altro ragazzi Voglio puntualizzare Che sono tipo Un paio di giochi Sì Un paio di giorni Un paio di giorni Che non gioca a questo gioco Quindi Questa è una ripetizione Ma Quindi Quasi un po' Come se stessi Conciendo da capo Perché ho avuto Un paio di problemi Con il pc Ultimamente Quindi In questi ultimi Due giorni Per cui Ho dovuto fare Il mega formatone Tra l'altro Ho anche messo Windows 8 Che prima stavo Windows 7 Devo dire Che per alcune cose Windows 8 Mi piace Tra l'altro Non moltissimo Quindi Lo sto ancora Valutando Ragazzi Lo sto ancora Valutando Poi ho letto Che comunque Sì con alcuni giochi Va meglio Rispetto al 7 Quindi Sto anche Valutando Questo aspetto Ma detto ciò Andiamo avanti Ciao ragazzi Sapete che Ora posso Farmi dare Tutti i soldi Che avete Spam Beh Però in compenso Abbiamo un bel po' Di soldi in più Non so se ne avanza Poi così tanto La pena Magari posso Ricaricarmi Comprando I sali Ok Benissima di metragliatrice Ok Non è che ne sia Valsa poi tanto La pena Ragazzi Però ok Fa niente Sono rimasti Solo due monete A chi serve La concorrenza Quando si ha La qualità C'è nessuno No Qui non sembra Meno non Per ora C'è qualcosa C'è qualcosa Qui sopra Abba di andare avanti Ci dispiace Comunicarle Che l'accesso A Monument Island È imperfetto Deve uscire Gli operai Devono raggiungere L'isola Tramite la skyline Skyline Le cose su cui Sono arrivati Gli sbirri Prima La lotteria Se è un ragazzo Sveglio Bucker Se è un ragazzo Molto sveglio No scherzo Non è vero Sveglio Comunque Dobbiamo andare Di qua Proviamo Vai Che figata Posso saltare ovunque Mi pare Wow 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 Che figata Wow Wow Vai ridica Vai ridica Vai ridica Wow Che bastardo Che figata Va Grazie Wow È diventato uno scheletro Disintegrato del tutto Alla Si dirige alla sua torre E alla rovina Nel cuore Alla rovina nel cuore Un concetto molto interessante Ok non ci posso andare Quindi immagino che si è bloccato Oh Salute Oh yeah Questo cos'è? Wow Infusione di salute Infusione di scudo Infusione di sali Mmm Scudo All the way Perfetto Almeno per ora Ragazzi Voglio aumentare un po' Perché ho visto che è molto utile O monete Accogli tutto Vai prendi tutto Anche se non mi serve più ormai Usa la scaletta Per raggiungere il monument island Yeah Perché è tutto sfocato? Non ne ho idea Yeah Wow Oh Oh Questa sarà i poteri Mentre sopra e sopra Eeeh Opla Opla Non è riuscito dopo pezz'ora Sono dato fuoco da solo Tra l'altro Ottimo Sono un genio Del male veramente E qui Eh Vediamo un po' Oh Volpi Che non mi servono Perché li ho al massimo Ma non è vero Non ce li ho al massimo Vediamo il box off Non ho riprodotto nessuno Il signore vide Che la malvagità degli uomini Era grande sulla terra E il signore si pentì Di aver fatto l'uomo sulla terra E se ne addolore in cuor suo Pioggia Per 40 giorni 40 notti E non lascio vivere niente Che camminasse Vedete amici miei Anche Dio ha diritto Di rifare le cose E cos'è Columbia Se non un'altra arca Per altri tempi Che saltino Comunque ragazzi Sto dicendo sì I voxilofoni I voxofoni Come si chiamano Non ho visto ripreciso Non ho fatto nemmeno uno Quindi dall'inizio Adesso Qualcuno li farò riprodurre Magari Qualcuno li vuoi sentire Un'arma silenziata Sarebbe utile Tu ora mi darai una mano Carissimo amico Sai cosa? Uncinello Oh cow Mi sono fatto un po' male Non cosa Hoxilofon Lo mozore Hoxilofon provides Uscarhips Ch�useum